A meno di due settimane dal referendum si sta alzando il volume del dibattito sull'eventuale comune unico tra Castelfranco e Piandiscò. L'argomento è ormai di pubblico dominio e ad alimentare il confronto negli ultimi giorni ha contribuito anche la costituzione del Comitato per il Sì al Comune Unico, organo formato da un gruppo di giovani che ha deciso di impegnarsi in prima persona per favorire la fusione. Il Comitato per il Sì si è costituito già da circa un paio di settimane e si prefigge l'obiettivo di ovviamente diffondere le informazioni, la conoscenza riguardo ai benefici e ai costi della fusione dei comuni di Piandiscò di Castelfranco. Ovviamente riteniamo che i benefici siano nettamente maggiori rispetto ai costi e per questo facciamo campagna elettorale affinché vinca il Sì e si fondano i due comuni. Passiamo alle motivazioni del Sì a partire da alcuni esempi in cui le funzioni sono già state associate. L'istruzione è già insieme diciamo con l'istituto comprensivo Don Luigi Milani che unisce le comunità di Castelfranco, Faelle e Piandiscò e la sanità attraverso un gruppo di medici che opera strutturalmente nel territorio e consente l'assistenza per le malattie croniche sia a livello strutturale che integrato. Una citazione anche per la riduzione dei costi della politica. La riduzione del numero dei consiglieri, il solo sindaco e la metà del numero degli amministratori comunali porterà non solo dei vantaggi economici ma porterà sicuramente ad una maggiore efficienza della macchina amministrativa perché se pensi che il nuovo sindaco del comune unico, i nuovi consiglieri e i nuovi assessori rappresenteranno una fetta molto maggiore di cittadini dovuta all'aumento della popolazione grazie all'Unione e quindi dovranno avere una maggiore preparazione e una maggiore specializzazione. Per favorire la propaganda il Comitato per il Sì ha già in agenda alcune iniziative. Una scena di finanziamento mercoledì prossimo 17 presso il Circolo Arci a Matassino e un incontro anche con il deputato Marco Donati del PD che verrà a Piandiscò venerdì per una pericena verso le ore 19. Ultimi appuntamenti prima del referendum poi Castelfranchesi e Piandiscoesi il 21 e il 22 aprile saranno chiamati alle urne.